Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video Innanzitutto come state? Spero tutto bene Come leggerete sicuramente dopo dal titolo Oggi video all Ho qualche compleanno Poi la festa della mamma Quindi perché no fare acquisti online Ho visto anche la noia Allora ho fatto due ordini Sul sito di Bottega Verde Uno sul sito di Bio Vegan Shop E uno su un nuovo sito che si chiama Makeup.it Che magari vi lascio giù nell'info box dopo Innanzitutto vi ricordo però di iscrivervi Se non siete ancora iscritti al mio canale E attivando la campanella di fianco Poi se vi piace questo video e ne volete vedere degli altri Vi ricordo di mollarci un bel like Se volete commentate Se ancora non lo fate vi lascio il link Diretto giù nell'info box Per seguirmi su Instagram Scusate Ma mi stavo soffocando Partiamo subito da Bottega Verde Che è il primo ordine che ho fatto Allora da Bottega Verde ho acquistato La mousse detergente viso Della linea Moringa Define Detox edilicata con olio di moringa E Oxygen Skin per tutti i tipi di pelle Che è questa Avevo provato la crema Ma la crema è per pelli più mature Io ho 30 anni e la crema è dai 50 in su Sempre della linea Moringa Define E mi era piaciuto tantissimo Allora ho visto la mousse Ho detto Perché no provare la mousse E ho deciso di prenderla E questa L'ho pagata 8,49 euro Allora Il primo ordine C'erano dei prodotti vantaggiosi E scontati Il secondo ordine Che ho fatto Premessa Il secondo ordine Che ho fatto Da Bottega Verde Avevo anche Uno sconto Di 10 euro Per Pasqua Non per Pasqua Per Perché questa L'ho fatta appunto Per Pasqua Dopo Pasqua Per il 25 Aprile Non lo so Vabbè Comunque Mi era arrivato Uno sconto Di 10 euro E quindi Ho deciso Di fare un altro ordine Poi Ho preso Due lavamani Dice che in questo periodo Ci laviamo le mani In continuazione Ed è giusto Anche farlo E quindi Perché no Prendere due lavamani Che sono questi qua Uno alla violetta Che è questo E uno ai petali di vaniglia Sono Sono 250 ml E questi 1,99 euro Erano scontati Poi Ho preso Il Gel Struccante Visiocchi Quellaia Della linea Quellaia Estrati di belletto Sempre appunto Di bottega verde Non brucia gli occhi Per tutti i tipi di pelle Questo Sono 200 ml E senza parabeni Eccessori Di forma lady E questo Avevo provato Un campioncino Mi ero innamorata E quindi ho deciso Anche di acquistarlo E questo Veniva E questo Di stati Ok Sì E lui 7,99 euro Poi Ho preso Un regalino Per mia zia Intanto non guardo I miei video Quindi ve lo faccio vedere Questa crema viso Della linea Uva rossa Crema viso Antietà Idratante Antiossidante Per pelli Normali E secche Con 92% Di origine Di ingredienti Di origine naturale Sì E vabbè E questa E questa Costava 9,99 euro E la linea No niente Ok No l'altra Che ho preso per me E l'altra linea Questa comunque E poi da Abbinarci Gli ho preso Un bagno Doccia Sempre Petali di vaniglia Questo Sono 400 ml E Questo 3,99 euro Poi Questo E l'omaggio Aspettate un secondo E poi Ho acquistato per me Questa crema Sempre per il viso Della linea Splendida Con estretti Di fico D'India Di Sicilia Età 30 più Per pelli miste Grasse Vedremo com'è Il packaging Dentro E il solito Penso di bottega verde Sì Tappo in plastica E Contenitore In veiclo Il classic 50 ml Ottimo Cioè Ottimo Vedremo com'è Sentiamo il profumo Se si sente No E questa Anche lei 9,99 euro L'ho pagata Stavo vedendo 1,2,3 5,6 Ok Si c'è tutto Nel primo ordine C'è tutto E poi Mi hanno dato Mi avevano dato Questo come omaggio Potevate scegliere 4 linee Io ho scelto Quello all'argan Appunto Buona Pasqua E c'è dentro Una Crema per il corpo Per pelli normali E secche Sia Argan Nel Marocco Latte corpo Questo è il campioncino Con il 97% Di ingredienti Di origine naturale E niente Poi Secondo ordine Ok Io sono così No perché Il regalo Per la festa Della mamma Appunto Essendomi Arrivato Lo sconto Di 10 euro Ho detto Perché no Fare un altro ordine Poi le spese Spedizioni erano gratis E quindi Ho acquistato Allora Però innanzitutto Ho acquistato Due detergenti Mani Questi Così Se andiamo in giro Ce l'ho in borsa Questi sono All'aloe Gel detergenti Mali Non acqua Igenizzante Con il 58% Di alcol Etilico Sono 100 ml Quindi Belli grandini Questi sono E uno costava 4,99 Due costavano 8,99 Quindi ho deciso Di acquistarne I due Poi Ho acquistato Una BB cream Della 80 ml Ed è questa Speriamo Di avere Azzeccato La colorazione Sì Penso di sì Un profumo Che ha E questa 9,99 euro Un po' caretta Però Speriamo Sia buona Poi Ho acquistato Una maschera Viso Della linea Estrati di bellezza Maschera nera In tessuto Detox Effetto di pelle libera Carbone vegetale Aloe 100% Tessuto Viscosa naturale Per pelli normali O miste Purifica Idrata E rinfresca È il tessuto Vedremo Com'è Però La sentite A parlare bene Questa Vediamo Com'è Essenza Parabeni Accessori Di Silicone E DTA Quindi Deve avere Anche un buon Dinci E questa Veniva 5,99 euro Poi Ho acquistato Del Giardini Toscani Podere Fiorito Si chiama È un Profumo Per mia mamma Non urlo Perché è di là Quindi puoi sentire Questo profumo E sono 50 ml Si Questo Non vi dico il prezzo Perché Non so Quando ve lo Carico Questo video Quindi Può essere che Lo veda prima Nella festa Della mamma Quindi Che mia mamma Guarda i miei video Quindi non mi piace Poi Ho Acquistato Una crema È una crema Un'acqua profumata Acqua di emozione Si chiama L'infrescante corpo Sempre appunto Di bottega verde È questa Questa Era scontata E 13,49 euro Però no Mi sembra di averla pagata Mino Comunque Comunque È questa E poi In regalo C'è un'altra Acqua profumata Questa volta Al tiarete E senza D'acqua Rinfrescante corpo Questa qua In omaggio Era Questa sono 100 ml E anche Questo Penso Sì 100 ml 12 mesi Pau 12 mesi Pau Sentiamo Questa Com'è Buona Dolce Ricorda Un profumo Famoso Questa Buona Questa qua E niente Magari Gliela metto Insieme Come regalino Alla mamma Vedremo Per la festa E bottega verde Abbiamo Finito Abbiamo Dato Anche Buona L'acqua profumata Si sente Anche tanto E ne ho Sfruttata Proprio Pochissima Come avete Visto Allora Sistema Un secondo E passiamo Agli altri Acquisti Ok Facciamo Spazio Agli altri Questo Lo lasciamo Per ultimo Perché Appunto È L'ultimo Che Ho acquistato Spostiamo Vabbè Teniamo qua davanti Si Tiro fuori Il foglietto Così vi dico Anche I prezzi Allora Sul sito Di Makeup.it È Un sito Nuovo Mi è uscito Tra le varie Pagine Che vi escono Su facebook E E niente Vende Anche Ho visto E per quello Che ho acquistato Prodotti Biologici Prodotti Che possiamo Trovare Anche Sul giardino Di Arianna Su Boutique La rosa Canina Su Ecco Verde Però A prezzi Più Vantaggiosi Infatti L'ordine È partito Perché Stavo finendo Lo scrub Corpo E ne avevo Solo uno In scorta Stavo appunto Finendo Lo scrub Corpo Di Organi Shop Che mi Piacciono Tantissimo E L'ordine È partito Principalmente Per quello Perché lì Erano scontati E ne ho presi Ben due Non mi piacciono Di scrub Corpo Di Organi Shop E sono Questi Due Questo Che è Al Sale Marino E Come si dice E Zucchero Di canna Questo E questo 2 euro E 2 euro Sono Uguali C'è Il Sesto 250 ml Come l'altro Non è che Cambia C'è meno Prodotto No Prodotto Uguali E poi Questo Che ha il miele E cannella Da provare E quello Miele Cannella 2 euro E 34 Quindi Costava un attimo In più Poi Come scrub Corpo Ne ho acquistato Un altro Questa volta Però Di natura Estonica Bio Di natura Estonica Bio Mi sembra Di non aver Acquistato Niente Cioè Di non aver Provato Niente E Uno Scrub Energizzante Sì Al 98 9 Di Ingredienti Di origine Naturale Sono 300 ml Ed è Questo Questo Qua E questo Veniva Questa È La rosa Canina E Acai 3 euro E 74 Quindi E sono 300 ml Quindi 50 ml In più Di quello Di Organic Shop Poi Ho fissato Uno struccante Occhi Di questa Marca Che si chiama Marion È uno struccante Bifasico Vedremo Com'è E questo L'ho pagato 4 euro 90 Sono 150 ml Vedremo Sperando Che Incrociando le dita Che non bruci gli occhi La mia Ossessione Quella Poi Ho acquistato Dei sali Da bagno Della linea Del marchio Cari Penso Sparoma Sono al miele Latte e miele Che profumi Latte e miele Che buono E al posto di mettere il bagno a schiuma Ho detto Prendiamo i sali E niente Sono 600 grammi E questi Li ho pagati 1 euro e 21 Quindi proprio una cavolata Poi Ho acquistato Un altro Gel money Questo qua piccolino Sono 30 ml Da tenere in borsetta Sempre Al gusto Di una fragola Questo è Vabbè Acquistato A Se lo trovo Ok 1 euro e 21 Al gusto di fragola Da tenere in borsa Poi Ho acquistato Un termoprotettore Questo Sempre del marchio Marion Termoprotettore E volume Quello da spruzzare Quando andate a fare La piega O per dare un po' Più di volume Ai capelli Vedremo com'è Sono 130 ml Di prodotto E l'ho acquistato A 4 euro E 22 Vi farò sapere Poi Ho acquistato Un Tonico Astringente Un po' acizzante Al muschio Irlandese 1 euro E 32 E' sempre nel marchio Natura Estonica Bio Ed è questo Vedremo com'è E sono 200 ml Questo non vedo l'ora di provarlo Poi Ho acquistato Un balsamo Sempre della linea Ah no Questa è della linea Super Siberica Alla menta E Adesso ve lo dico Menta Betulla E retinolo Condizionato No Condizionato Per capelli grassi A base di idrolato Biologico Di menta Altaica Pulizia profonda E freschezza Vedremo com'è Sono 400 ml Quindi E' Un bel boccettone E' vegano E' E niente Vi farò sapere E questo Se è buono E' anche da ricomprare 6 euro E 56 Per 400 ml Di prodotto Un prodotto biologico E' vegano Penso che E' un buon prezzo Sia un buon prezzo Speriamo che fa anche Che non appizzantisca Ulteriormente I capelli E poi Vuoi non acquistare Due maschere? Per il viso Giulia E Scusate Per il viso Giulia E No E ho acquistato Queste due maschere Della Marca Bielenda E' una Maschera Opacizzante E detox Che è questa E questa CBD Cannibidiol Non so che cos'è E' anche questa Purificante Detossificante Ed è questa Queste non sono in tessuto E allora Vediamo i prezzi Allora Maschere Pelli grassi Miste Che dovrebbe essere Questa 0,90 centesimi Invece questa 1,40 euro Vedremo come sono Poi passiamo All'ultimo Sito Che è quello Di Bio Vegan Shop Questo Dove Avevo già Acquistato Qua c'è Un regalino Che non vi farò Vedere Perché la mia Amica Guarda i video Quindi Non ve lo farò Vedere Allora E qua Ho acquistato Vediamo poi I vari Campioncini Che mi hanno dato Una conferma Che è L'idrolato Di Timo Bio Del Marchio La Saponaria Questo Avevo provato Quello La salvia E quello Rosmarino Se non mi Ricordo male Questa volta L'ho preso Il Timo Comunque Per pelle misto Grasse È l'ideale Come tonico O se avete Qualche brufoletto O se vi sentite La pelle Oleosa Un batuffolo Di cotone Un po' Di questo È l'ideale E questo 3 3 euro 59 Ah Sul sito Di Biovengan Shop Era tutto Scontato Del 10% Più Altre cose Che erano Scontate Di più Comunque L'acqua profumata Di bottegna verde Ragazzi Si sente ancora Ogni volta Che muovo il braccio Si sente il profumo Quindi deve essere buona Poi Ho acquistato Una mousse Sempre detergente Viso Questa volta Di puro bio Vegan ok Nickel test È questa Sono 100 ml La buble La buble Mousse Mousse Pablon Mousse Detergente viso In mousse Cocco Pele Asportando Residui Di trucco E sporco Vedremo Com'è No lacrime E niente È oftalmologicamente Testata E niente Vedremo com'è Però mi incuriosiva E questa L'ho pagata 10 euro E 79 Poi Ho preso Quello lì Il regalo Un rossetto Sempre a regalare A mamma Del marchio Di Antos È Rossetto Antos È Il colore Fragore Questo è Il colore Se vi piace E questo C'è scritto Anche Ed ora Sorridi E si felice Una bellissima frase È questo Rosa Fragola Rosa Ciliegia Ciclamino Mettiamola come volete Bellissimo E questo L'abbiamo pagato Ho pagato 6 euro E 74 Poi Ho acquistato Un'altra Maschera viso Questa È di Biofficina Toscana Maschera In argilla Oro Detox Spurificante Al Elicrisio Bio Toscano Ed è questa Bella Perché c'è il tappino Richiudibile Così non si secca Sono 30 grammi Vedremo com'è E questa L'ho pagata Proviamolo È un olio Respiro Praticamente Ed è questo Il marchio È Laboratoire Alto Dovrebbe essere Vediamo se c'è scritto No Olio da massaggio Respiro C'è scritto E basta È fatto così È bio È 100% naturale Sono 200 ml E niente Al pump Fatto così Vedremo com'è Se funziona Questo 5,93 euro Per 200 ml Non è neanche caro E poi Infine Basta Perché poi C'è Il regalino Per la menita Come campioncino Mi hanno dato Gentilmente Un Olio Al geranio Rosato Di Sobio Etic È un Olietto Lentivo Fatto così O anche Devo mettere Nel bruci Essente Per profumare La casa Ottimo Poi Mi hanno Dato Una maschera Per capelli Allora Ecco Bio Forza Maschera Capelli Effetto Ristrutturante E Stimolante Del marchio La saponaria Questa Poi Di Alchemilla 90-60-90 Ice Una crema Penso Per le gambe Clema Ad effetto Freddo Prolungato Ideale Per le pelli Delicate Soggette A fragilità Capillare Efficacia Nel trattamento Cosmetico Delle Adiposità Localizzate Si può utilizzare Anche come crema Anticellulite Poi Di Mossa Mi hanno Dato Il siero Certificato Bio Approvato Degli Dermatologi A base Di Mertili Rossi Nordici Dalle proprietà Lelettive Questo Voglio provarlo Assolutamente E Di Infine Di EU Thermal Jonzac Deve Deve Sare Una Crema Idratante Andrò Sul sito A leggerlo Perché Non so Cosa Sia Questo Niente Questi qua Sono stati Tutti i miei Acquisti In quarantena Online Fatemi sapere Voi Con un commentino Cosa avete Acquistato Se avete Acquistato Qualcosa Online Questi Giorni Io vi mando Un grosso Bacione E un abbraccio E ci vediamo Al prossimo Video Ciao A tutti E